Gesù si esprime con una tenerezza infinita, come infinita è la misericordia del Signore, unica vera fonte di consolazione per quanti sono stanchi e oppressi. Partendo da un passo del Vangelo di Matteo, Papa Francesco ha dipanato la Catechesi dell'Udienza Generale soffermandosi sugli imperativi che il Figlio di Dio pronuncia. Venite a me, prendete il mio gioco e imparate da me. Gli sfiduciati della vita, soprattutto in questo anno santo della misericordia, possono così comprendere pienamente che solo seguendo Gesù è possibile trovare il ristoro per tutta la vita, che prendere il suo gioco vuol dire entrare in comunione con Lui ed essere partecipi del mistero della sua croce e del destino della salvezza. Bisogna dunque vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia, consapevoli che a volte la nostra stanchezza è causata dall'aver posto fiducia in cose che non sono l'essenziale. Non lasciamoci togliere la gioia di essere discepoli del Signore, ha aggiunto il Pontefice, non lasciamoci rubare la speranza di vivere questa vita insieme con Lui e con la forza della sua consolazione. Ma perché Gesù è capace di dire queste cose? Perché Lui si è fatto tutto a tutti, vicino a tutti, ai più poveri. Era un pastore che era fra la gente, fra i poveri, lavorava tutto il giorno con loro. Gesù non era un principe. E' brutto per la Chiesa quando i pastori diventano principi, allontanati dalla gente, allontanati dai più poveri. Quello non è lo Spirito di Gesù. A questi pastori Gesù rimproverava e su questi pastori Gesù diceva alla gente, ma fate quello che loro dicono, ma non quello che fanno.